Benvenuti in questo nuovo video della quarantena Oggi andremo ad aprire in condizione un pochino più tosse, scusateci Le uova kinder Io mi sono fatta comprare l'uovo kinder da mia madre solo discorsivamente per la sorpresa Io per mandarlo Invece mia sorella per mandarlo Perché a me l'uovo kinder non piace Però ci farò qualche ricettina Quindi se ancora non sei iscritto al canale cosa aspetti a farlo? Continuando col discorso andiamo subito ad aprirle Prima però Andiamo a vedere nel dettaglio che questo è dedicato ai pets Vita di animali Questo E hanno fatto vedere anche il film Guarda che carina questa cagnolina Che poi alla fin fine è tipo una polponcina Questo Ma comunque è carinissimo Il cartone animato è carino Quindi te lo consiglio Se ancora non l'hai visto Mentre mia sorella Perché non lo dice lei? Non lo so Pare che Io ho i peluche junior Ma poi perché sei qui verso il I peluche junior I peluche junior Però della focus Focus il Come si chiama? La rete televisiva Ma comunque ci siamo capiti Apri il tour Allora aspetta dove vai Apriamo Per aprirlo Aspetta che ora abbasso lo scarmo Irene c'è lo scotch Al girare Non c'è bisogno di rossi Si però Allora tu vai Ah si Vabbè Non trovo il punto Non trovo il punto Io? Si Ma perché? Cioè ma ma coperto il viso Questa volta il punto non c'è Ah da me il punto non c'è giusto L'ha trovato Che bello ma sai quanti Quanti ne abbiamo mangiato di questi kinder da piccoli Soprattutto per le sorprese Io Allora questo è il mio Quindi vediamo Mossa Kung Fu Panda Come sempre Annaggia la miseria Mi ha battito Ora me la mangio io Ce la faccio E non comincerò a dire niente Che bello Adesso lo montiamo Lo monto Che carino E una macchinina Con il cagnolino Senti Si vede Si vede E non muoverti Che carino Vabbè ora lo monto in due secondi E poi Qua c'è praticamente Titta La dicitura Su come montarlo Ma io non ho neanche bisogno ovviamente Di guardarlo Ecco cosa c'è Ecco cosa c'è Gli adesivi Per metterli qua Ora apriamo quello di mia sorella Porco Giuda Lei subito Arancione Ed è un peluche Sarà un gatto Che po' un gatto è Non è un gatto È un gatto No vabbè Ci ha detto a mia sorella Sarà un gatto Mettilo qua Abbassato Che carino Grigio Bellissimo Certosino Certosino Un gatto antico Maria Il certosino Detto comunemente Certosino francese È una razza di gatto domestico Originale della Francia È una delle razze feline più antiche È stata infatti importata in Francia Dall'Oriente Da cavalieri templari Nelle 1100 Circa Cuccioli junior Poi ci sono gli altri E qua che c'è scritto Non solo grigio Ah ci sono le caratteristiche Vediamo Leggi Leggi Il pelle è liscio Grigio con riflessi di blu E può avere sfumature che variano dal colore cenere fino al colore ardesia E raggi del sole E il mantello Per un fenomeno di rifrazione Assume sfumature di colore azzurro-violo Gli occhi sono sempre di colore giallo-oro Dimensioni 35 cm Peso 4,5 Ama la famiglia Il certosino è molto affettuoso E' estremamente legato alla sua famiglia Con una forte personalità E' un gatto molto leale E la sua maturità si dimostra fin dalla tenera età Infatti è equilibrato Si affeziona alla famiglia e non alla casa Per cui accetta ben volentieri gli spostamenti Miau Ma con moderazione I pregi di questo gatto sono anche la tranquillità e la silenziosità Miau lo ha raramente Non si lagna mai Eppure fa sentire la sua presenza con gli sguardi e le fusa Si trova bene con le persone anziane Grazie alle sue capacità comunicative Si rivela paziente e fermo anche con i bambini più piccoli Bellissimo E a proposito dei gatti Facciamo un giretto E troviamo lui Guarda che meraviglia Con il suo pelucino Allora Guarda che carino La macchinina con il cagliolino E poi è il protagonista E poi Che gattino Che carino Quanto io sono un bambino Su queste cose proprio sono Facciamo l'assaggio del Cioccolato Io non ne mangio perché a me non piace Ripeto Però la Kinder come sorpresa Per me è imbattibile Linde Queste cose così Regalano sempre Solamente Gioielli Anzi Ciondoli La scocciatura Invece Con la Kinder hai la sorpresa Com'è? Buonissimo Cioè? Io non ne posso mangiare Che dobbiamo ricordare Mia sorella è intollerante Al latte lattoso Quindi quando Mi viene voglia Un pezzettino Esatto E questi sono I bugiardini Come si sa dire Le cartine Una è di questo E uno è di quello Del gattino Detto ciò E mentre che mia sorella Finisce di mangiare Noi ti salutiamo E ti ringraziamo Per essere arrivato fino a qui Con la bocca a piedi Ciao ciao A presto 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 A presto